Ciao ragazzi e ragazze, sono passati quasi tre mesi dall'ultimo video riguardanti le novità di New World. Il 13 marzo uscirà la stagione 5, quindi da ieri è disponibile il PTR per testare le novità riguardanti il gioco. Per questo farò un video apposito per vedere insieme i cambiamenti e i contenuti che arriveranno in futuro. Come avete letto dal titolo sono state trapelate delle informazioni riguardanti l'espansione di settembre. Finalmente si può trarre delle supposizioni di quello che può esserci perché AGS non ha ancora detto nulla e quello che c'è adesso nel PTR in teoria non sarebbe dovuto uscire. Ma fra datamine e magari sbagli appunto di contenuti non disattivati, quindi ancora disponibili nel PTR, sono uscite diverse informazioni che vedremo insieme in questo video. Ok, la prima cosa che vi voglio parlare è della zona PvP. Praticamente questo ragazzo maleoreo, che è un noto youtuber che gioca al moschetto, molto bravo, era nel PTR attraversato questo ponte e automaticamente è stato flaggato con la stringa sotto che dice FFA flagged. FFA sta per Free for All, che significa libero per tutti. Infatti, come mostrato nel video, il suo compagno, che è della stessa fazione, Viola, quindi Syndicate, ha la possibilità di colpirlo e lui stesso può colpire lui. Quindi questo significa che la zona non distingue la fazione. Attualmente nel PTR è così. Può essere soggetto a cambiamenti. A me, sinceramente, preferisco così perché sennò diventerebbe un'influenza 2.0. Abbiamo già visto che l'influenza molto lo fa il numero, nonostante provino a cacciare persone, bla bla bla. Spesso capita che ti ritrovi, nonostante tutto, contro 800 persone. Tu sei 10 stronti, non puoi far nulla. Quindi se io spero sia un tutti contro tutti, si parla di un'isola. Lo vedete qui dalla mappa, il perimetro è molto più largo, va verso il mare, quindi è probabile che lì ci sia un'isola. Si parla, si vocifera di un boss, di un boss che droppa qualcosa di importante, quindi che porta appunto alla gente lì, no? Qualche forma di ricompensa, perché ok, ci sta una zona PvP, però avere una ricompensa attira molti più giocatori. In più abbiamo questa stringa che conferma la zona PvP, la stagione 7 e il raid. Un'altra novità, già ne avevano parlato passato di un raid nuovo, probabilmente arriverà appunto a settembre con l'espansione sempre a scogliere della sciabla, quindi vediamo che questa zona di mappa avrà molta più importanza rispetto ad adesso, perché appunto si aggiungerà la zona PvP, si aggiungerà il raid. Di conseguenza non so se faranno una mappa totalmente nuova, può essere solo che abbiano avuto a dare un po' di più importanza in quelle zone, appunto come era prima luce, che è stata reworkata proprio per questo. Niente, quindi avremo un raid. Quest'altra stringa ci conferma che il raid sarà a Katalaski, molto probabilmente, e che il boss sarà Medusa. Penso forse una versione di quella che abbiamo già visto nella storia principale, magari più, non lo so, cosa si inventeranno, ma molto probabilmente c'entra lei. Quindi ci sarà la possibilità di cambiare aspetto all'interno del gioco tramite un barbiere. Spero però che abbiano messo magari più capigliature, più, non so, più tatuaggi, più cose un po' più... cose migliori che rispetto ad altri giochi, New World è molto indietro riguardante l'aspetto, perché al solito chi piace questo tipo di gioco ci perde ore a personalizzare il personaggio, quindi sarebbe una cosa, un contenuto in più importante. Qui vediamo una stringa contenente delle quest, basate su settimanalmente, giornaliere, a ore, addirittura minuti, quindi non si sa molto, vedremo. Arriverà l'orso come cavalcatura. Ora veniamo all'ultima parte. Ho visto, non ne ha parlato nessuno, io ho notato questa cosa. Ho fatto, diciamo, un 2 più 2 e ho questa ipotesi, anche se non è che poi chissà cosa. Però, probabilmente, la prossima arma saranno i pugnali. Perché dico questo? Innanzitutto, farvi vedere cosa dice Pippo Baudo in Balance of Power. Questo video dove si parla di com'è la situazione dell'occupaggiamento, dice che secondo lui i trangels si trovano in una buona posizione, ma che corpo a corpo, in leggero, no. E dice proprio Assassin, cosa che in tutti gli altri video non l'ha mai menzionato. Mai, mai, mai. Non sa mai che cos'era un Assassin. Quindi questo mi fa pensare che stiano testando l'arma quindi, ovviamente, pugnali per forza di cose è un gameplay d'assassino e che abbia notato, ovviamente, che chi gioca corpo a corpo, leggero, è un dito in culo perché, ovviamente, ti arriva ti arriva danno a caso a caso chi toglie metà vita di conseguenza dice di aspettarsi qualcosa in arrivo per la stagione C. Cosa è successo? Che nelle patch note sì, c'è stata una modifica al carico dell'occupaggiamento che vedremo nel video ma già adesso vi mostro che sempre nelle datamine e come vedete in questa foto l'occupaggiamento leggero, ma è lì ha un incremento del danno del 5% 0,05 significa 5% che non è tantissimo insomma, non è neanche cioè non è il danno il problema il problema è il danno che ti arriva però in teoria, tecnicamente i melee a corpo leggero già dalla prossima stagione avranno un 5% di danno in più rispetto a i ranged un'altra cosa che conferma la mia ipotesi dei pugnali come arma che probabilmente uscirà con l'espansione è il fatto di questi perk visibili su New World Database arrivati con il PTR non disponibili quindi sono solo aggiunte che probabilmente appunto arriveranno in futuro infatti vediamo scritto PvP Zone AirChain Ride AirChain sono tipo di nemici appunto che si trovano nelle foreste dell'Elisi appunto centra con medusa e l'espansione comunque il primo perk riguarda i DOT si riesce a dedurre qualcosina anche se non è descritto DOT forse aumenta il danno di DOT non lo so questo è un perk di protezione la stringa inerente a PvP Zone non penso ci siano perk specifici per zone lo vedo assurdo anche perché appunto un vantaggio solo per un ride penso penso proprio non penso proprio penso sia solo diciture perché per dire ok quando li mettiamo quando esce la PvP Zone quando esce il ride anche se in questo caso escono entrambi lo stesso altro non lo so fatto sta tra questi perk quello che mi ha attirato più l'attenzione è questo qui questo qui tecnicamente è il simbolo per indicare il danno in generale è il laceratu però vedendo tra le armi disponibili ci sono tutte le armi e tra queste ci sono anche i dagger quindi i pugnali questo perk inoltre è nella tabella dei critici secondo me questo qua ha due scelte una è un incremento del danno alle spalle può essere che appunto con i pugnali arrivi questo tipo di perk oppure può essere un incremento del critico agli attacchi pesanti per me queste sono le due strade non vedo altre ipotesi perché c'entra il critico in teoria signori scusate se è diventato un ASMR alla fine ma si è fatta una certa io quando registro un video ci metto otto secoli perché non sono capace tutto ciò io spero sempre comunque che vi arrivi un minimo di informazione poi l'importante è quello fatemi sapere cosa ne pensate noi ci veniamo col prossimo video vediamo un po' insieme il PTR e le novità io come sempre vi ringrazio vi saluto alla prossima